salve a tutti amici e amiche oggi ci dedicheremo a una mera speculazione su quello che potrebbe accadere con lo schieramento di f16 nei prossimi giorni in ucraina prima di iniziare però vi ricordo di iscrivervi al canale è facile basta premere il tastino iscriviti che vedete qui in basso a sinistra sotto il video le iscrizioni sono l'unica cosa che mi permette di continuare a fare questi video quindi se volete sostenermi questo è il modo migliore di farlo da mesi i piloti ucraini si stanno addestrando su di f16 che il governo di kiev ha chiesto a gran voce fin dall'inizio del conflitto le forniture usa fino ad oggi sono state materia di dibattito e hanno presentato grandi problematiche non tanto per una questione politica dal momento che in due anni di conflitto l'ucraina tiene duro grazie proprio a forniture nato quanto invece per i problemi logistici e di esercizio che queste macchine comportano il problema principale infatti non è l'utilizzo dell'aereo in sé quanto piuttosto la preparazione del personale a terra i cicli di manutenzione i pezzi di ricambio che il logoramento di un conflitto aperto comporta attività che non sono di certo quelle ordinarie finalmente i paesi bassi e la danimarca hanno dato l'ok per prestare o meglio cedere i loro vecchi f16 all'ucraina e non stiamo parlando di grandi numeri comunque poco meno di una cinquantina e fra l'altro parliamo del bloc 20 che è una delle versioni più vecchie dell'f16 ma proviamo a fare qualche ragionamento insieme e analizzare le cose da un punto di vista oggettivo facciamo qualche accenno per inquadrare meglio questo aereo anche se immagino sono davvero in pochi a non conoscerlo è considerato da molti il miglior caccia multiruolo della storia con più di 4.500 unità prodotte 2.100 delle quali utilizzate da altri paesi diversi dagli stati uniti che sia una macchina valida e di successo è un fatto indiscusso è stato impiegato ovunque con una lunga storia operativa in italia abbiamo avuto modo di utilizzarli nella transazione fra l'f 104 e l'eurofighter e le voci di corridoio mi dicono che ci sono ancora oggi piloti che lo rimpiangono e certamente l'eurofighter gli è superiore ma per certe cose l'f16 ha ancora una marcia in più per citare l'emo 9 un famoso pilota di f18 americano che ha anche un canale qui su youtube l'f18 è il mio aereo di tutti i giorni lo adoro ma volare sull'f16 è come guidare una ferrari è un'esperienza indimenticabile ma perché questo aereo lascia il segno nei cuori dei piloti che lo hanno volato le ragioni sono essenzialmente due la sua interfaccia con il pilota le sue prestazioni per quanto riguarda la prima questo aeroplano ha visto uno sviluppo particolare fino agli anni 60 infatti i generali americani insistevano sull'idea di un aereo tutto in uno grandi piattaforme capaci di portare bombe e missili e dalla grande autonomia per certi aspetti queste vecchie mentalità e specifiche sopravvivono ancora oggi e le vediamo applicarsi specialmente sul fronte russo con questi grandi aeroplani come il su 27 e mig 35 e più recentemente il su 57 questo approccio in america alla fine degli anni 60 stava conducendo allo sviluppo dell'f15 eagle tuttavia un gruppo di ufficiali americani all'epoca mise in atto una sorta di ribellione perché si rese conto che l'utilizzo di grandi aeroplani intercettori o multiruolo comportava degli svantaggi fondamentalmente perché più l'aeroplano è grande meno è manovrabile più lento ad accelerare e inoltre è più esposto alle emissioni radar è più visibile quindi quindi si affacciò l'idea di affiancare a questi grandi aeroplani una serie di piccoli caccia più maneggevoli e questo gruppo di ufficiali che poi presero il nome di fighter mafia sposarono le teorie del colonnello john boyd e dell'analista militare thomas christy su concetti energetici e di manovrabilità per cui secondo loro e secondo questa teoria il miglior strumento per la guerra aerea fosse un piccolo caccia che potesse mantenere sempre alti i valori energetici durante il combattimento e quindi essere superiore in qualsiasi condizione senza dilungarmi troppo perché altrimenti finisce che dedico un video solo alla storia dello sviluppo dell'f16 basta dire che la fighter mafia poi spinse gli ingegneri a costruire un abitacolo che aiutasse il pilota o almeno le esigenze del pilota da combattimento piuttosto che quelle dei generali che lo volevano pieno di pieno di cose più multiruolo e quindi alla fine si raggiunse un vero e proprio compromesso magico e i punti di forza di questo aeroplano alla fine furono un'interfaccia straordinaria e intuitiva per il pilota a partire dalla disposizione degli strumenti di bordo dei display per avere tutto sotto controllo e che richiedesse il minimo sforzo mentale per poter così dedicarsi all'azione un fly by wire completamente computerizzato un tettuccio privo di montanti per una visibilità perfetta prestazioni manovalabilità e accelerazione e fattori di carico mai visti prima inoltre per accontentare i generali statunitensi che volevano anche un camioncino per le consegne una capacità multiruolo capace di permettere all'aereo di svolgere tutti i possibili task aria terra dalla soppressione delle difese aeree passando per il supporto aereo ravvicinato fino alla distruzione di obiettivi corazzati e sensibili con una varietà di armi pari a quella di una 10 warhawk ora non sto esagerando nel simulatore che mi vedete utilizzare che nelle sue versioni dedicate viene utilizzato anche dall'aviazione degli stati uniti e dall'armée dell'air francese tutte queste caratteristiche dell'f16 si vedono e si sentono le azioni che vi sto mostrando sono in aria aria mentre attacco un sito s 300 o utilizzo dei sensori questo è il suo abitacolo con poche semplici pressioni sullo stick si possono cambiare modalità operare sul radar sui sensori come il lightning l'hts targeting system posso posso ricevere informazioni sui velivoli e sulle postazioni nemiche da altri f16 dagli evr dagli awax attraverso un sofisticato sistema di datalink di condivisione satellitare e radio senza utilizzare il mio radar di bordo senza farlo posso entrare in battaglia e uscirne restando completamente sneaky silenzioso l'aero inoltre può montare dei pod per la guerra elettronica dei disturbatori che riducono drasticamente la possibilità di essere agganciati da sistemi missilistici le sue dimensioni minuscole poi gli conferiscono naturalmente una bassa visibilità sia nello spettro visivo che il radar e questo unito alle sue prestazioni gli permette di volare basso dove grandi avvioggetti russi non sono proprio nel loro elemento e sotto quelle quote di fatto esiste la vera invisibilità la sua accelerazione poi gli permette di salire in quota mantenendo mac 1 e tirare delle sassate micidiali con missili attivi lancia e dimentica e poi andarsene via tutte queste cose quindi saranno a disposizione dei piloti ucraini quindi l'f16 anche nella sua vecchia versione il bloc 20 è un aereo molto pericoloso e prevedo grandi mazzate per i vecchi su 27 che sono un bersaglio troppo grande e facile per missili come la in 120 ora lo so come già successo nei commenti ai miei precedenti video qualcuno inizierà a tirare fuori tabelle e distanze e range dei missili russi e non solo con frasi del tipo è ma oggi non si fa più il dogfight i missili russi sono i migliori arrivano a 200 chilometri ma tu non sai quello che stai dicendo c'è confusione un tè c'è un grande vuoto mi hanno detto sei un ragazzo ok grazie per avermi tolto 30 anni darmi avermi dato 30 anni di meno comunque sì c'è un grande vuoto dentro di me lo ammetto che si può colmare solo con le iscrizioni al canale ve lo assicuro comunque per essere precisi il dogfight era già obsoleto nel 1915 ma non si sa perché nei videogiochi e a hollywood si continua a citarlo a parte questo non voglio entrare troppo in tecnicismi perché questo canale lo ricordo è rivolto a tutti e vorrei continuare a usare un linguaggio comprensibile ma ecco vi anticipo che sto lavorando a una mini serie di video dedicati alla storia e alle tattiche della guerra aerea così da accontentare un po' tutti ma giusto per darvi delle anticipazioni nei combattimenti aerei moderni i missili che vengono lanciati fra aeroplani quando gli scudi missilistici permettono di volare identificano il cosiddetto bvr che solo sulla carta è di fatto oltre la linea visiva significa questo un combattimento a lungo raggio perché in realtà poi il vero combattimento avviene a distanze molto più corte da una parte è vero missili moderni possono di fatto raggiungere distanze anche superiori ai 200 chilometri anche di più ma si parla di lanci dissuasori cioè sono lanci che servono giusto a far suonare gli allarmi sull'aeroplano che li riceve ma a quelle distanze il lancio è pensato su un aereo che va dritto incoscientemente verso la sua fine se questo inizia a virare anche di poco quella traiettoria balistica del missile non serve più a niente e il missile potrà essere evaso è un missile fra l'altro che viaggia missile aria che viaggia fra mach 2 e mach 3 se parliamo di un lancio perfetto e in quota quindi nelle condizioni ideali comunque a 100 chilometri ci metterà più di un minuto ad arrivare è un lasso di tempo troppo lungo e nessun pilota militare in uno scenario di guerra aperta volerebbe dritto sparato verso una minaccia per più di un minuto le distanze di riferimento dei missili che trovate sulle tabelle da sempre sono servite solo a fini propagandistici test che vengono fatti su droni che appunto volano dritti in un contesto reale lascia nel tempo che trovano per darvi un'idea anche un missile moderno come un meteoro un r77 1 o un aim 120d o un sd 10 cinese con lanci a bassa quota non fanno più di 20 chilometri anche un lancio a 10 chilometri su un aeroplano che scappa a mach 1 significa mancarlo perché a bassa quota l'aria è densa e la resistenza aerodinamica distrugge qualsiasi idea di dynamic lounge zone quindi per fare un ragionamento effettivo di possibili abbattimenti lo scenario più realistico sono combattimenti quasi a corto raggio dove un missile attivo come l'an 120 è molto più pericoloso delle controparti russe se parliamo almeno di r27 e r o r che sono ancora più vecchi che poi sono il grosso dell'arsenale russo sono missili semi attivi che per carità hanno prestazioni superiori dell'amran in termini di velocità di punta ma richiedono la guida costante fino all'impatto cioè non sono missili lancia e dimentica quindi nessun pilota sano di mente continuerebbe a tenere un missile in guida anche solo nell'eventualità che dall'altra parte ci potrebbe essere un aim 120 in volo soprattutto poi i missili attivi americani sono silenziosi almeno per l'80 per cento del loro tragitto quindi quando il loro piccolo radar interno si attiva e accende l'rvr sul bersaglio che è il dispositivo di ascolto dei segnali radar se il pilota che riceve il lancio non ha già iniziato delle manovre difensive molto prima sarà già troppo tardi quindi cosa accadrà in ucraina con l'arrivo dei 16 da una parte i russi dovranno fare i conti con questa macchina molto pericolosa i cui unici difetti sono un radar come la nipg 66 che è un po datato è comunque un radar capace di acquisire in softlock e tvs intorno alle 40 miglia o poco meno se parliamo di grandi aeroplani come su 35 e su 27 nonostante questo il 16 come ho detto può lanciare missili assolutamente silenziosi fino al tratto terminale quindi se fino ad oggi i russi hanno perso una cifra stimata di 250 aeroplani i numeri saranno destinati a crescere quanto meno dall'altra parte aerei come il su 35 e su 27 hanno radar più performanti ma comunque in termini di gittata dei loro missili avranno gli stessi limiti delle f16 quindi come ho detto prima i lanci dissuasori sarà molto difficile che andranno a segno e se fossi al posto dei piloti ucraini mi guarderei bene dallo sfidare apertamente la vvs resterei al sicuro nel cappello dei sam guardando la situazione via datalink visto che saranno dati molto ben aggiornati e forniti da un intelligence e supporto tecnologico da parte degli aeri nato per aspettare così la prima occasione di fare una kill pulita di sicuro ci saranno perdite da entrambe le parti perché l'f16 non è invincibile in particolare non ha sistemi elettroottici passivi che i nostri euro fighter hanno e che hanno quasi tutti i cacciarussi moderni tutte le versioni del su 27 e mi 29 almeno quindi i piloti ucraini dovranno stare attenti a non prendersi in pieno missili come l'r 27 et che è una versione a medio raggio di un missile a infrarossi o le versioni più moderne dell'r 77 missile che per certi versi è simile a un 120 americano ma non altrettanto silenzioso ma a parte questo sottolineo che la guerra aerea moderna va considerata in funzione degli scudi missilistici quindi anche qui la capacità sead dell'f16 metterà a dura prova ai russi e appunto l'idea più logica del loro impiego secondo me dovrebbe essere quella di ignorare i caccia nemici e dedicarsi esclusivamente alla soppressione delle difese aeree restando ben protetti dai patriot alle loro spalle ed è quello che farei io perché lo scontro fra caccia alla fine è fine a se stesso cioè non serve a nulla a livello tattico al massimo a qualche risonanza sui telegiornali ma poi finisce lì non è mai servito a nulla lo scontro fra caccia da soli nella storia della guerra aerea quindi l'addestramento dei piloti ucraini in questi mesi spero si sia focalizzato soprattutto sull'area terra e se utilizzato in questo modo scusate i russi potrebbero facilmente perdere sistemi importanti come l'S-300 l'S-400 che avranno bisogno di essere ben difesi da unità sa 15 e companatico sistemi che costano centinaia di milioni di dollari difficilmente sostituibili quindi ecco di nuovo l'F-16 rappresenta una grande minaccia per loro senza contare bombe a guida gps se i piloti avranno la possibilità di lanciarle potranno essere una bella spina spina nel fianco dell'esercito russo perché di fatto il pilota semplicemente potrà fare affidamento sui dati di intelligence forniti dagli alleati decollare con il piano d'attacco preimpostato accelerare arrivare in quota sganciare e ripetere questo ciclo fino a due volte in un'ora da parte russa vedremo come risponderanno a questa minaccia di fatto l'entrata della finlandia in europa ha comportato lo schieramento da parte di mosca di truppe su un'enorme linea di confine come se l'europa attraverso la finlandia volesse invadere la russia e questa paura di essere invasi i russi se la portano dietro dalle guerre napoleoniche e rasenta la paranoia che poi per giustificare le loro campagne di invasione continuano a dire che sono gli altri a minacciarli quando non è vero ma resta il fatto che la nuova linea di confine è veramente troppo grande e troppo dispersiva quindi come è stato previsto da tutti questo comporterà un grosso problema di gestione delle risorse che non sono certamente illimitate la mia speranza è che questa situazione porterà il governo a stancarsi presto e a riconsiderare il piano di invasione messo in atto due anni fa che è costato la vita a oltre 260.000 giovani e magari smetterla di minacciare il mondo con il dito puntato sul bottone rosso come si dice no in gergo l'aggressività è indice di paura alla fine il deterrente nucleare funziona solo perché non si usa e putin sa molto bene che se si intraprende quella strada la russia non ne uscirà vincitrice in alcun modo non vincerà nessuno probabilmente e quindi ecco queste sono le mie idee come sempre vi ringrazio per essere arrivati fin qui fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate un grosso abbraccio alla prossima